iscrivetevi al canale allora questo sabato lo dedichiamo naturalmente alla giornata della memoria io ho già portato il fumetto che è capolavoro che rappresenta quel periodo storico lì che è naturalmente Maus poi magari vi metterò il link di quest'opera io non sono molto d'accordo sulla segre che dice che questo periodo verrà dimenticato perché comunque anzi forse era più un pericolo in passato agli anni 80, 70, 80, 90 che questo periodo venisse dimenticato anche perché vedo che c'è molto interesse nei giovani e naturalmente prodotti come Maus secondo me hanno aiutato tantissimo io ho scoperto che comunque nel nostro gruppo Telegram molti ragazzi sono interessati a quest'opera quindi questo fa molto piacere forse anche più di altre persone che magari non si sono mai avvicinate a questo prodotto è un fumetto di Art Spiegelman Spiegelman questo è il volume brossurato insomma andate a vedervi poi il video ho fatto anche una recensione su come sono fatti un brossurato normale si poteva benissimo per quest'opera fare una legatura a filo poi dare un'occhiata 30 anni l'unica cosa positiva è questo questo cofanetto come vi dicevo già questi cofanetti secondo me sono molto più belli di metterli in plastica e questo qua sicuramente è uno dei cofanetti molto resistenti cioè è una struttura molto bella massiccia dove puoi mettere questi volumi forse per quello non li hanno fatti a filo però qua abbiamo le due copertine originali è un fumetto insomma non vi sto qua raccontare cosa si prova chi lo ha letto sa insomma che è un fumetto che è più di un fumetto strano che non ci abbiano fatto un film dedicato i disegni all'interno sono un po' un po' particolari nel senso che molti abituati a vedere a vedere alcuni tratti soprattutto nei manga potrebbe essere spiazzato ho già sentito qualcuno che diceva che insomma non l'avrebbe mai letto perché i disegni sono brutti io dico che quei disegni là sono adatti a questa storia cioè sì forse non sono perfetti ma comunque lasciano segno ecco questa rappresentazione dei insomma dei topi dei disegni un po' particolari forse non non delicati non leggeri ma ma lo scopera quello ecco e sicuramente la narrazione è quella che colpisce di più ma ci sta no in un fumetto deve contare anche il disegno ma ripeto a mio avviso è un tratto veramente significativo cioè il mouse non può essere mouse senza quel tipo di disegno vi faccio vedere una tavola a casaccio vediamo quindi non mettetevi paura del tratto non riesco a leggerlo vi posso assicurare ad esempio che che è comunque un fumetto più scorrevole rispetto ad esempio ai tre adolf che vedo questi mattoni così uno potrebbe anche stare alla larga ecco da certi mattoni io ho trovato molto più piacevole la lettura di mouse ad esempio o meno pesante rispetto appunto e tre adolf i giovani lo stanno riscoprendo almeno per i ragazzi che sono sul canale telegram di norma è la prima cosa una delle prime cose che noi proponiamo sul canale telegram appunto in mouse una volta diciamo che oggi il giovane è molto più fortunato nel senso che secondo me ha molte più opportunità no per leggere per per informarsi ma anche ma anche per quanto riguarda autori anche per quanto riguarda storie anche nella visione no abbiamo rispetto a una volta noi avevamo la RAI poi sono arrivate le reti finivest quindi avevi degli orari ben stabiliti adesso c'è talmente tanta roba tutta roba in streaming che a volte c'è talmente tanta roba che non guardi niente ecco una volta ci si ritrovava in un determinato orario per guardare una serie tv e quindi oggi è molto più semplice ma non solo molto più semplice è anche molto più bello nel senso si sceglie una serie tv la si guarda quando si vuole a qualsiasi orario e si fanno anche delle belle maratone cosa che una volta difficilmente si poteva fare cioè veramente prendere un ragazzo e scaraventarlo ma anche già solo negli anni primi anni 90 dove c'è ancora la videocassetta sì forse ecco forse noi lo apprezziamo di più proprio perché non avevamo quella fortuna l'amo anche per quanto riguarda appunto questa giornata della memoria c'erano i documentari c'era insomma però bisognava aspettare il momento ecco anche io sono un appassionato di queste guerre del passato le storie della seconda guerra mondiale la storia dell'impero romano ma quando ho iniziato a scegliere diciamo così cosa guardare no mi andava ad informarmi andavo su youtube 2007 2008 e avevo la possibilità di informarmi di creare una playlist di queste cose diciamo che mi sono più informato dopo gli anni scolastici era tutto molto più difficile no non c'era wikipedia quindi bisognava spendere milioni di lire a volte due milioni tre milioni per prendere una enciclopedia che rimaneva lì molto bella ma oggigiorno praticamente inutile oggi con insomma con internet vai vai a selezionare qualsiasi cosa ecco quindi non ne invidia e anzi io la trovo una cosa molto fortunata forse ripeto quelli della mia età apprezzano di più il fatto di avere oggi questa opportunità cioè che prima non avevamo e anche appunto le notizie su questa seconda guerra mondiale anche io ho fatto delle ricerche su su quest'autore sul disegno su le ho fatte tutte su internet per quello in realtà voi non trovate non trovate più come una volta non so delle didascalie all'inizio di un fumetto a volte no proprio perché comunque la casa editrice qualcuno l'aveva già anche detto non mi ricordo se era se era la star comics o addirittura la Bonelli non ricordo che che ormai non si mettono più no le rubriche oppure lo spiegozzo su alcune cose come si faceva una volta io trovo ancora molto carino queste cose chi lo fa non si fa più proprio perché appunto si mette solo fumetto per il semplice motivo che vai su internet e insomma sei tutto sull'autore sulla storia sul disegno eccetera eccetera ecco questa insomma questo sabato lo finiamo qua giornata alla memoria andatevi a vedere il video ho fatto la recensione sia del fumetto e poi nella playlist su come è strutturato l'opera il metodo due link e niente insomma un'altra cosa da boomer l'abbiamo detta nel senso che comunque ripeto per questi svaghi ma anche per le notizie ma anche per lo studio mi trovo meglio adesso che una volta ecco una volta veramente se non sei figlio di operai che non si poteva permettere l'enciclopedia andavi da un tuo amico andavi a studiare perché c'era l'enciclopedia perché economicamente magari stava stava meglio però se qualcuno può dire anche una cosa bella nostalgica stare in compagnia io in questo momento vi potrei anche dire ma che cazzo chi se ne fotta se avevo la possibilità perché no ecco di avere un tablet di avere internet di avere qualcosa che subito poteva potevo essere informato sarebbe stata una gran bella cosa ricordiamo che in realtà bene bene nell'informazione a internet su internet l'informazione digitale immediata la si ha dopo gli anni 90 ecco e dopo gli anni 90 qualcuno aveva ancora difficoltà io ho ancora adesso difficoltà con il wifi figuriamoci figuriamoci appunto ancora negli anni 90 dove la connessione non era neanche veloce per aprire una foto ci andava ci andava veramente anche qualche minuto ma in qualsiasi cosa anche nei videogiochi erano i videogiochi erano in cassetta i primi cd i videogiochi in cd proprio negli anni 90 erano arrivati ma una volta ad esempio negli anni 80 per caricare un gioco ci andava un quarto d'ora mezz'ora se non saltava la bobina all'interno della cassetta io immagino lo Spectrum qualcuno lo conosce il Commodore 64 insomma saltava per poi vedere degli omini stilizzati che tiravano una freccia e perdere magari delle ore per caricare un giochino e beh meglio così insomma si va avanti io trovo io trovo che la tecnologia bisogna poi alla fine saperla utilizzare non un po' come il fumetto il digitale bisogna saperli utilizzare quando ad esempio quando io esco vado via in vacanza in camper invece di portarmi quantità di carta in giro preferisco portarmi ormai il digitale no lascio perdere una cosa preferisci il digitale preferisci il cartaceo dipende dalle situazioni sinceramente ok mi rivolgo soprattutto ai boomer come me come la vorrei sapere da loro come la pensano se preferivano prima o dopo io in questo ambito ripeto continuo a dire che preferisco adesso perché mi basta un click e per quanto riguarda i giovani insomma meditate un attimino su questa cosa provate a pensare a pensare a non avere internet e dover fare solo e soltanto ricerche andare alla ricerca di un libro non mi venite a dire era più bello la ricerca queste sono pippone che ci facciamo noi e quindi cercate di essere giovani andare avanti e usufruire di quello che che c'è di positivo in queste innovazioni ok ciao alla prossima ciao a tutti Grazie a tutti.